Oggi sono stati pubblicati i risultati di un'analisi fornita da Ipsos, l'istituto diretto da Naldo Pagnoncelli, al Corriere della Sera. Analisi che indica un identikit dell'elettore tipo di alcuni partiti. Ovviamente si sottolinea gravemente come l'elettore tipo del PD sia diplomato o laureato e con un reddito alto o medio-alto. Ora, se si esaminasse la cosa oggettivamente, si è un po' la scoperta dell'acqua calda. Il PD difende gli interessi dei più ricchi, di solito i più ricchi possono anche permettersi di studiare, pertanto i più ricchi e i più istruiti votano PD. Per i PD nei medesimi vale però questa sovrainterpretazione. Gli elettori del PD sono più ricchi e più istruiti, ergo sono la crema del paese, ergo come può il PD venire criticato se fa gli interessi della crema del paese. Mica può perdere tempo con gli interessi di chi fa fatica invece ad arrivare a fine mese. E allora mi diverto un po' a sovrainterpretare a mia volta. Premesso, come più volte abbiamo detto su questo canale, che non esistono corsi in magnanimità, diplomi in generosità e lauree in nobiltà d'animo. Mi verrebbe da pensare che delle persone colte, più avvertite, più coscienti della complessità di un reale composto da elementi interconnessi, dovrebbero rendersi conto che tutelare gli interessi di chi sta peggio alla lunga fa star più tranquilli tutti. Quanto meno uno potrebbe pensare, sì, in fondo io sto bene, regalo il mio voto a chi sta peggio di me per quello che può servire. Invece no. Ma soprattutto, una persona colta e istruita dovrebbe essere meno determinata dalle sue condizioni di classe anche soltanto per il gusto di distinguersi dagli odiati elettori della Lega, ad esempio, che, come l'Ipsos ci segna, si tratta di un partito che detiene una maggioranza di persone con licenza media in condizioni economiche per lo più medio-basse. Invece, guarda te, alla fine sia gli uni che gli altri votano in base ai loro interessi, senza che ci sia una differenza di prestazioni. Ha istinto. Ma a questo punto, cosa è servito a studiare agli elettori del PD? Ah, ovviamente, vi esimo dal venire a dire, è servito a diventare ricchi, perché in un paese con l'ascensore sociale bloccato da meno vent'anni non vi crede nessuno.